E' venuto fuori che hanno fatto un progetto di prefattibilità che non tiene conto però della reale fattibilità di alcune delle opere, non di tutte. Noi siamo anche favorevoli a potenziare la ferrovia, però poi ci sono anche dei limiti oggettivi. Per esempio c'è in mezzo il Parco Nazionale della Maiella, col Morrone, dove è prevista una galleria di 11 km, quindi uno scavo enorme per più di un miliardo di euro di valore, intanto in un parco nazionale ed è vietato. Poi ci sono anche questioni ancora più gravi. Il primo è che lì c'è la faglia del Morrone che dovesse muoversi come purtroppo prospettano tutti i sismologi, non certo noi, potrebbe fare un gradino, cioè si potrebbe spostare, non solo quindi dare uno scuotimento, ma proprio uno spostamento fra i lembi della faglia fino a due metri. E quindi questo determinerebbe il disassamento di un'eventuale galleria che diventerebbe inservibile. Poi c'è un'altra questione ancora più grave. L'acqua di Chieti e Pescara, che beviamo tutti i giorni, 700.000 persone bevono l'acqua che viene da Popoli. Ebbene, costruire una galleria appena a monte di questa riserva idrica, che ci garantisce la vita con l'acqua, non c'è neanche una parola. Beh, è un errore clamoroso, perché uno quando fa un progetto di fattibilità deve tener conto dei limiti oggettivi. Altrimenti rifacciamo la storia del Gran Sasso, dove abbiamo problemi idrici incredibili, perché non è stato tenuto in considerazione il fatto che il Gran Sasso rifornisce di acqua mezza regione. In questo caso Popoli rifornisce di acqua Chieti, Pescara e tutti i comuni della Val Pescara, che rischiano di rimanere senza acqua perché vuoi farci una galleria appena a monte di queste sorgenti fondamentali per la nostra vita. Quindi è un progetto assolutamente carente e mi viene da dire, come abbiamo fatto solo anche a metterlo su carta, veramente facciamo fatica anche a crederci, forse hanno dovuto fare in fretta per ottenere i fondi europei.